buongiorno buongiorno amici non è bello il mio paesello di solito vi faccio vedere il mare ma stamane mi è venuta così successivo scorcio della mia scandale all'alba del 22 novembre 2019 poco più di un mese al Natale buongiorno francesco che mi raccontate di bello avete visto i 5 stelle si presenteranno alle elezioni regionali in emilia romagna e in calabria da soli si era rischiato e non partecipare proprio io onestamente avrei fatto l'alleanza col pd ve la dico proprio sincera sincera perché siamo in una fase un po così buongiorno sono in diretta voi abbiamo il nostro antonio rizzuto stamattina ciao come come sta giornata è tutto bene al donna cani tutto bene la segretaria tutto a posto dico se ti tratta male dimmela a me che interveniamo insomma salutamela buona giornata buona giornata bidelli al lavoro per fortuna che ci sono i bidelli se no togliamo gli stipendi dei bidelli degli amministrativi come me di qualche segretario scandale resta resta poco e delle maestre resta davvero poco vi stavo dicendo io avrei fatto l'alleanza perché un periodo un po così e invece correremo da soli magari prenderemo il 5 per cento la parto basso diciamo due tre consiglieri in emilia romagna e 12 in calabria sarei già contento perché è inutile inutile puoi anche cambiare il mondo ma come come diceva mussolini il il popolo è come è come le puttane va con il maschio che vince e in questo momento è il momento di salvini che non fa nulla cioè non è nulla è la fuffa fatta persona però attira con con i suoi modi social con tutto quello che c'è dietro perché non mi non vi pensate che salvini in quel modo salvini in quel modo perché lo impostano in quel modo ha dietro alle spalle una una un'equipo una serie di persone che lavorano per lui per lui che le sue mi hanno raccontato che per esempio vedono che l'argomento del giorno è l'omicidio che ne sono una persona in campagna e lui parla su quell'argomento perché è l'argomento che attira di più le persone e cerca di così di fare proseliti è un modo anche così forse si fa politica o lui la fa e per il momento sta avendo ragione ha ragione lui perché è vincente in questa fase però diamo tempo al tempo perché non è finita insomma siamo al governo stiamo cercando di migliorare l'Italia i 5 stelle con il PD ci stiamo forse anche riuscendo stiamo facendo delle belle cose tanti errori abbiamo fatto forse altri ne faremo ma l'importante è provarci a fare le cose questo c'è onestamente vi piaccio nella nuova versione senza pizzetto stamattina mi sono sbarbato questo c'entra poco con questo bellissimo panorama di scandale davvero mi ha sempre affascinato poi di sera è ancora più bello c'è qualche foto mia di questo panorama di sera con le lucine in giro su facebook sui miei social ed è ancora più accattivante più affascinante del vederlo adesso di mattina presto 6 e 38 quasi 6 e 38 quasi di questo 22 novembre io mi avvio mi avvicino alla macchina che ho lasciato al bar di Anna da un 150 metri da qui 200 metri per andare in ufficio anche oggi a quest'ora se fosse andato come dovevo andare sarei operato ma invece mi hanno rinviato l'intervento un piccolo interventino niente di che a lunedì e devo soffrire quest'altro weekend almeno mi 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 godo la partita tra lo scandale e il Ciron Marina di domenica Luigi Demme tutto verde diciamo in salute non con la ferita dell'operazione che magari mi avrebbe fatto un pochino soffrire e lunedì daremo un taglio a una certa situazione che sta diventando davvero pesante per poi avvicinarci all'immacolata al Natale spero in piena salute visti i capricci che fa il mio cuoricino ma quello è un altro discorso che poi pian piano affronteremo l'importante è non 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 cedere del tutto buongiorno Rocchina di Salvatore Fontana auguri grazie Pino Grisi per gli auguri ciao fedele buona giornata a tutti alla prossima